Roma è stanca, a Roma serve un vero sindaco. Ignazio Marino è un medico, un chirurgo di fama internazionale. Da sempre vicino ai più deboli, Marino sa riparare ciò che non funziona. Un sindaco deve pensare all'idea di città e di comunità che vuole costruire per i prossimi 25 anni. Quello deve fare un sindaco. Grazie.